Brux Lounge Brux Lounge Brux è una delle scarpe che più stanno bene sul piede perché sembra che lo avvolga senza stringerlo ma offrendo un gran comfort di calzata. Per quanto riguarda la zona tallonare notiamo l'utilizzo di una conchiglia di morbidezza intermedia questo per consentire al tallone di avere un alloggiamento confortevole non opprimente per il tendine e che consenta un'ottima fluidità di movimento e nessuna costrizione all'interno della scarpa stessa. Veniamo ora a spendere due parole molto importanti per quanto riguarda il clou di questo prodotto vale a dire l'intersuola e il battistrada ovvero la suola. Brux come mescola di gomma utilizza il mogo. Si tratta di una mescola di gomma appunto che offre un grande ammortizzamento in abbinamento a un'ottima fluidità nel movimento. Infatti questa scarpa ha fra le sue caratteristiche principali proprio quella di consentire un movimento molto armonico e molto fluido partendo dalla fase tallonare passando per la fase mediale e infine nella fase di spinta. Si può notare come la scarpa fletta in maniera molto fluida, molto armonica e molto naturale. Questo offre al piede un grande comfort di calzata e un'ottima sensibilità in fase di corsa. Il battistrada di questa scarpa è completamente piatto e questo in armonia e in sintonia con quanto detto in precedenza vale a dire perché questa scarpa vuole essere molto fluida e molto armonica nel movimento della corsa. A chi consigliamo Brux Lounge? Fondamentalmente è una scarpa leggera che però può essere utilizzata da più tipologie di podisti. Infatti lo può utilizzare sia il podista leggero per fare gli allenamenti ma anche un podista un po' più pesante che cerchi però una calzatura molto performante e che non disdegni di offrire quel giusto di apportezione ed ammortizzamento di cui abbiamo bisogno quando si percorrono distanze medio-lunghe. Con questo ti saluto e ti ricordo che il running da noi è tutta un'altra corsa. Ciao!